Era trascorso un giorno, come tutti gli altri. Sicuro, fra le sue mura, tutto il castello dormiva. Prima che si chiudesse, aveva passato la porta un pellegrino. E vestì l'abito dei monaci di San Benedetto. Infine lasciò l'anima sua al Signore nostro, Gesù Cristo. E il corpo suo da seppellirsi nella cappella del detto ospedale. Un si sposa, perché us la fa. Un si sposa, un si sposa. Perché us la fa. Perché us la fa. E il modo sta. E il modo sta. E il modo sta. Pater nostre, qui es in Cielis, sanctificetur, nomen tu. Pater nostre, qui es in Cielis, sanctificetur. Pater nostri, qui es in Cielis, sanctificetur. La tua preghiera, con te i nostri cuori, di gente che ti ama, di gente che in te spera. La tua preghiera, con te i nostri cuori, di gente che in te spera. La tua preghiera, con te i nostri cuori, di gente che in te spera. La tua preghiera, con te i nostri cuori, di gente che in te spera.